bella a tutti e ben ritrovati qua sul canale perché a forza di spacchettare e mi è venuta in mente questa diciamo questa diciamo questa serie che può uscire una volta ogni due tre mesi una volta all'anno adesso non lo so e di come sto mettendo la mia collezione dei poter pokemon per momento sono raccoglitori proprio quelli scolastici che ho preso che che sono riuscito a trovarli prendendo che comunque e all'inizio e avete visto i vari spacchettamenti sul canale poi ovviamente con i diciamo il terzo raccoglitore il quarto vi spiegherò meglio un po quello che poi andrò a fare perché subito io cosa facevo qua in questo questo è tutto un raccoglitore pieno di carte pokemon ok però che subito ero partito con questo e ogni volta che spacchettavo mettevo dentro le carte così cioè quindi tutte quelle quelle tipo con l'erba poi tutto quello insieme tutte quelle acqua quella bianca fuoco elettro eccetera eccetera quindi tutte le serie mescolate insieme però è in fondo qua in fondo ciò tutte leggiamo per il gigante però dopo ho detto cappero però dopo mi mi scomodo se voglio mettere diciamo per serie che so scude spada la gente regale eccetera 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 e allora dopo quando è arrivato il secondo raccoglitore qua sono tutte carte comuni energie strumenti eccetera eccetera cosa ho fatto li ho divisa vedete qua c'è tipo quella del compleanno poi poco qua questa è poco molto tutto poco lungo qua astri lucenti e gli ho cominciati a dividere ok ma soltanto in questo raccoglitore qua quindi gente regale tenite regale adesso non so se li ho messi in questo blu o in quello rosso e in questo blu sono praticamente tutti divisa diciamo alle serie che ho spacchettato però tra comunque il diciamo il raccoglitore rosso e quando ho iniziato questo io mettevo diciamo che dovevo in un futuro portale a gradare questo lo usavo a scuola quando ero piccolino tutte queste carte qua diciamo le gx eccetera eccetera e vi max ok quelle diciamo un pochino più fighe tutto qua dentro ok e avevo cominciato a poi fare anche la pagina promo se queste sono tutte quelle promo sono tutte le promo in fondo e poi fare tutta la pagina dei charizard e come ho detto tutte queste fighe qua in questo raccoglitore qua e poi come avete visto anche un video in questo qua tutto diciamo la prima serie cioè proprio quelle proprio stra vecchie stra vecchie vecchie che si ricorda diciamo la prima serie ok e quindi dice un po' diciamo che tipo proprio la jungle rocket eccetera eccetera sono tutte qua dentro quindi diciamo le prime serie e quasi le ultime sono un po' divise io soltanto fare tutte quelle da quando avevo iniziato perché comunque da quando sono ritornato a ricordare pokemon io avevo messi un po' mescolati quindi il mio dubbio lasciarle come ho iniziato quindi continuare a fare che sono tutte erba tutto fuoco tutto elettro eccetera eccetera e poi ho cominciato ho cominciato a stamparmi tutte le checklist per andare a poi man mano a proprio a dire bene questo cielo questo non ce l'ho quindi l'alternativa comprare raccolgitori che abbiano già le buste o raccolgitori così mettere prendendo anche le buste da 9 e separarli tutti o continuare quindi fare che il suo prima serie fare un raccoltore con tutte le prima serie rocket jungle fossile eccetera eccetera poi per fare il primo album penso di spade scudo fare tutto spade scudo poi fare asti rinascenti lucenti coltanto mi sfuggi tutti i nomi corretti fare fare tutto così o tenere tutti mescolati ma fare tutte le checklist e questo voglio che se c'è qualche collezionista di pokemon che mi sta facendo mi diamo il consiglio perché comunque è meglio fare un po da subito così da almeno che so un pochino almeno riuscire a gestirli meglio e niente dittimi ai certo che vi chiedo questo consiglio anche a voi sono continuo così fare che so un raccolitore che so oppure mi mi ha anche venuto a mente adesso fare che so un raccolto il prendere un raccolitore e fare tutte tutto erba quindi tipo questo proprio dalla prima serie prendiamo che so prendere la prima serie con bulbosauri visor venusaur per cui do il calcuna far tutto tutto diciamo erba poi che sono normale acqua eccetera eccetera e prendere le check quindi che so raccolitore tutti i pokemon erba tutta erba tutto fuoco tutta acqua eccetera eccetera prendere le pari checklist sia partendo dalla set base fino all'ultimo e quando vado chiuso a trovare qualcosa da crocettare quello che c'ho così per vedere quello che mi manca è più veloce se no veramente devo fare raccolitore per raccolitore ogni serie non so cosa fare spero di essere stato chiaro e più possibile e niente ci vediamo al prossimo appuntamento balla